Chiara Ferragni, il momento complicato, le parole che scuotono Pomeriggio 5. Ciao amici, oggi voglio parlarvi di un momento complicato che sta attraversando la famosa influencer Chiara Ferragni. La notizia è stata rivelata da Mirta Merlino durante Pomeriggio 5, dove è emerso che la Ferragni sta vivendo un periodo difficile sia dal punto di vista lavorativo che personale. Nonostante abbia mantenuto un profilo basso ultimamente, Chiara Ferragni ha confermato di trovarsi in una fase dolorosa della sua vita, chiedendo semplicemente di poter andare dalla sua psicologa per cercare di superare questo momento complicato. Le sue parole hanno destato preoccupazione e curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Durante la trasmissione, Mirta Merlino ha commentato le parole dell'influencer, spiegando come si è riuscita a intercettarla nonostante la sua assenza dai social. Anche se Chiara Ferragni non si è sbilanciata troppo, ha dato alcune informazioni rivelatrici che hanno fatto discutere e speculare sulle cause di questo periodo difficile. Inoltre, è emerso che l'intervista rilasciata da Chiara Ferragni al Corriere della Sera ha scatenato polemiche e discussioni nella coppia, soprattutto per quanto riguarda il marito Fedez. L'amorvillo ha espresso perplessità sul perché il rapper si sia sentito toccato dalle parole della moglie, sottolineando che Chiara ha ammesso le difficoltà senza coinvolgere direttamente il marito. Insomma, il mondo dei VIP e delle celebrità non smette mai di sorprenderci e di far parlare di sé. È importante ricordare che dietro i riflettori ci sono persone con i loro problemi e le loro sfide. E auguriamo a Chiara Ferragni di superare al più presto questo momento difficile. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.